Quanti casi più o meno gravi sono finiti in tribunale a causa della gelosia movente non solo di delitti efferati, persecuzioni, maltrattamenti. Con l'avvento di internet e dei social network la casistica si è ampliata. Un articolo del codice penale, il 615 ter, dice che entrare in sistemi informatici contro il volere dell'avente diritto è reato. Questa la premessa per raccontare una vicenda che appunto si è conclusa in tribunale. Protagonisti una moglie di 45 anni, un marito di 49 e soprattutto appunto la gelosia. I fatti sono avvenuti qualche anno fa a Campobasso. La moglie rosa da un tarlo che il marito la tradisse. Non ha assoldato un investigatore ma più semplicemente è entrata nella posta elettronica del coniuge. Tra un accesso e l'altro la signora ha iniziato a scrivere mail ingiuriose nei suoi confronti. Frasi del tipo mio marito mi tradisce in internet. La casella era di tipo aziendale. Una volta scoperta per la donna è scattata la denuncia d'ufficio e si è ritrovata così sul banco degli imputati. In primo grado è stata condannata a un anno e mezzo di reclusione e a pagare oltre 2800 euro di risarcimento al marito per danni morali e materiali. L'uomo infatti per quasi un anno non ha potuto accedere alla sua casella di posta elettronica dove c'erano informazioni e contatti di lavoro. Casi come questi costituiscono un precedente e si può subire dunque una condanna pesante nelle aule di giustizia e la fine del matrimonio tra le mura di casa. Stando agli esperti della legge poi c'è il rischio di sommare al resto anche il reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking sul codice penale riassunto nell'articolo 612 bis.